signori e signori buonasera benvenuti al secondo memorial del maestro tiberio marani adesso ci sarà l'orchestra di milco gramellini farà un paio di brani per iniziare la serata poi dopo passeremo tutta la carrellata degli ospiti quindi mettetevi comodi perché ce ne sono tanti la serata è stata organizzata dai figli del maestro tiberio marani sentirete dei bravissimi solisti e poi alla fine vedremo anche ancora l'orchestra di milco gramellini che chiuderà la serata prima inizierà poi ci sarà un intermezzo e poi dopo farà il finale voi siete come ospiti anche voi come solisti sarete come ospite come tutti gli altri bene signori vi ricordo che è sempre il secondo memoria del maestro tiberio marani organizzata dalla sua famiglia buon divertimento a dopo ok ora partiamo subito ovviamente con i successi del maestro tiberio marani e il primo è i cavalli sono stanchi beccato so Grazie a tutti 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 Pino Grazie a tutti 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 Fabio Grazie a tutti 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 Ci siamo Grazie a tutti 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 Grazie a 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 tutti Vai a tutti Grazie 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 a tutti Vogliamo una Grazie a tutti 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 Grazie a tutti